Il dolore di ieri e quello di oggi. La comunità ucraina ricorda la carestia del paese degli anni 30 ai nove mesi della guerra di Putin. Le religioni pregano per la pace. E ora torniamo a parlare della guerra in Ucraina a Torino. La commemorazione dell'Olodomor, la carestia di massa che negli anni 30 i russi inflissero agli ucraini che si ribellavano contro le espropriazioni. I profughi oggi dicono che questa guerra è come quella strage. Gian Piero Amandola. Olod, fame, mor, morire. Allora morite per fame. Già, Olodomor, una strage di 7 milioni di persone, soprattutto ucraini, fatte morire di fame e di sete dal regime stalinista. E' un atto di genocidio di popolo ucraino. Erano i contadini proprietari terrieri, i kulaki, che si ribellavano alla statalizzazione delle loro terre volute dal regime sovietico. Oggi i profughi ricordano quell'ecidio. C'è chi lo fa con le parole della nonna. Mi raccontava piangendo sempre, con le lacrime, con il dolore nel cuore, perché è una cosa estremamente difficile poi da trasmettere. Oggigiorno purtroppo non vive più, però io non vorrei neanche che vivesse questo periodo di guerra. E c'è chi dice che la storia si ripete. Nella guerra di oggi, affermano, i russi non prendono per fame, ma toriendo l'elettricità e la telefonia. E senza telefono, gli 11 mila profughi piemontesi hanno perso i contatti con i parenti rimasti in Ucraina. È difficile per tutti, quelli che sono rimasti e quelli che sono scappati rifugiati. Non c'è la luce e questo è una cosa figilissima perché le gente devono sopravvivere in Ucraina. E la guerra in Ucraina, insieme agli altri conflitti in corso, è stata al centro dell'incontro interreligioso promosso a Torino dal coordinamento Noi siamo con voi un grido di pace che rilancia i contenuti dell'appello firmato dal leader religioso un mese fa a Roma, riuniti proprio dalla comunità di Sant'Egidio. Al teatro ragazzi, rappresentanti delle diverse comunità religiose della città per offrire alla società un gesto di responsabilità ma anche di concordia.